Grazie, grazie dell'introduzione e buonasera, buonasera a voi tutti anche da parte mia, lo studioso serio ma spero non serioso e io vi sarei grato se voleste avvicinarvi perché parlare al vuoto mi dà i brividi, mi fa venire un po' le vertigini, mi piacerebbe... Eh, diciamo che hanno mandato una delegazione. Ebbene, come detto e come annunciato nel titolo, la conferenza di questa sera intende presentare, prego, c'è ampia disponibilità di posti, nella primissima fila sono quelli migliori. Presenteremo i frutti di un programma di ricerca di cui vedete il titolo Musica fuori uso, fonti a stampa della musica d'uso primo novecentesca. Un progetto che è stato sviluppato nell'ambito del PNRR, partenariato esteso 5 Changes e il suo acronimo che sta per Cultural Heritage, Active Innovation for Sustainable Society. Cosa vuol dire tutto questo profluvio di sigle e di acronimi? È un progetto volto alla diffusione e allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, i cui assi portanti in chiave musicologica sono la valorizzazione dei beni musicali, materiali e immateriali, e la patrimonializzazione della tradizione musicale. Il nucleo di ricerca, guidato dal professor Maurizio Corbella dell'Università Statale di Milano e di cui chi vi parla ha fatto parte fino a qualche mese or sono, è incentrato sulla editoria milanese per la musica d'uso del primo novecento. Il nostro lavoro ha preso le mosse dall'individuazione di collezioni di musica d'atmosfera, vi spiegherò presto cosa si intende con questa espressione, per un uso cinematografico, che sono frutto di una tradizione editoriale specialistica di case editrici milanesi come Ricordi, Carish, Sonzogno e molte altre. Il progetto si è dato come obiettivo l'individuazione e la valorizzazione dei documenti musicali ai fini non solo di una storia della composizione applicata, ma di un più ampio contributo alla conoscenza della cultura musicale primo-novecentesca. Gli scopi di documentazione, di quelli che noi possiamo chiamare l'ecosistema sonoro della musica di consumo di area milanese, partecipano pienamente alle finalità di ricostruzione del patrimonio culturale e musicale, così come nelle finalità di questo progetto, dal nome, dall'acronimo, CHANGES, ma anche le finalità che sono descritte dal Piano Nazionale della Ricerca, un altro PNR, ma con una R sola, che pone la priorità sulla digitalizzazione dei processi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'impiego di tecnologie digitali, al fine di rendere questo patrimonio accessibile a un vasto pubblico. Il PNR richiama, in molti i suoi punti, la ricerca universitaria alla necessità di aprire il patrimonio culturale a una partecipazione sociale, come in primis attraverso le pratiche educative, la pratica didattica, ma anche attraverso l'incentivo ai processi creativi e processi espressivi. La ricerca può e deve immaginare spazi, ambienti, architetture accessibili e aperti a una fruizione sociale che deve essere eterogenea, quanto più varia e basta. L'individuo e la comunità sono posti al centro di un processo di apprendimento, in molti casi anche di riapprendimento, che ebbene sia il più possibile inclusivo e partecipativo. È un quadro molto ben delineato, che ha un chiaro peso specifico su quella che oggi si chiama transizione digitale, e nella quale anche le discipline storiche, letterarie, artistiche, si vedono assegnare un preciso mandato, che non è però, attenzione, la digitalizzazione tale e quale, sic che il simpliciter, di un fondo o di un archivio cartaceo o sonoro, il suo impacchettamento in una qualche banca dati, che poi diviene molto presto obsoleta, è destinata in poco tempo a cadere in disuso. Occorre invece condurre la digitalizzazione del patrimonio documentale di biblioteche, di archivi, di musei, con criteri e con le modalità che siano capaci di restituire significato, di restituire vitalità al patrimonio culturale. La digitalizzazione di qualsiasi documento deve completarsi anche con un dovere che possiamo dire di restituzione e dunque anche di riproduzione, se possibile anche di analisi, svolta ed elaborata in ambito digitale. Ebbene, muovendo da queste premesse, sono sorte negli anni pregevoli esperienze, che possiamo dire di ricontestualizzazione digitale, di opere, di esperienze sonore, che hanno lo scopo di salvaguardare, di spiegare, di ricomporre quanto si offre ai nostri occhi e alle nostre orecchie, magari in condizioni frammentarie, disgregate. Mi piace segnalare questo progetto dell'archivio storico Ricordi dedicato a Verdi nei 200 anni della sua nascita. Anche noi abbiamo tentato di mettere alla prova questo discorso, questo paradigma della transizione digitale. e di farlo nel campo della musica cinematografica del primo novecento. Nel far questo ci siamo dovuti confrontare sin da subito con quello che costituisce notoriamente il problema nevralgico di questo campo, vale a dire lo stato delle fonti. La musica cinematografica, e nella fattispecie la musica dell'era del muto, ha il suo vulnus nello stato altamente problematico delle sue fonti. Su un piano puramente storico vale la pena ricordare che la grande parte delle musiche per i film di quell'epoca, così come le pellicole che a quelle musiche si accompagnavano, è andata perduta per sempre. Rarissime sono le partiture manoscritte con l'orchestrazione, cioè la distribuzione nelle parti dell'orchestra prevista dallo stesso autore. Un caso più unico che raro, quello che qui vedete, la partitura di Luigi Mancinelli per il film Frate Sole, 1918. Più frequenti sono prodotti come questo, riduzioni pianistiche, come quella di Edmund Meisel per il capolavoro di Sergei Eisenstein, La Corazzata Patyomkin, ma queste riduzioni pianistiche sono state realizzate il più delle volte in un diverso contesto e con tutt'altro scopo. Sapete per esempio che il film è del 1926, ma questa suite è del 1930, quindi già questo vi dà la misura dello iato, dello scarto temporale che vi può essere fra un prodotto e l'altro. Tutto qui, per fortuna no, perché dall'epoca del muto è giunta invece ai nostri giorni una moltitudine di musiche d'atmosfera, così le chiamavo poc'anzi, musiche che per loro natura possono collocarsi, in genere si collocano a monte di una illustrazione musicale, cioè della concreta musica d'accompagnamento con cui un film, e in una qualche occasione è stato musicato, illustrato in sala, ma talora possono anche derivarne a posteriori, cioè venire dopo quella musica, come in questo caso, questa raccolta che porta il titolo Fantastic Romantische Suite di Hans Erdmann ed è stata tratta dalla partitura andata ai noi perduta per il film Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, smontata la partitura, ne è rimasta questa Fantastic Romantische Suite. A cosa si deve la rarità di partiture originali? È dovuta al fatto che non la composizione di musiche originali, bensì la compilazione di musiche preesistenti era la pratica più comune e diffusa per tutta l'epoca del cinema muto. Gli accompagnamenti musicali per le proiezioni cinematografiche avevano la forma che potremmo dire di collage, di brevi musiche desunte liberamente da vari repertori, da quello operistico a quello sinfonico, così come da operette, ballabili, canzoni di varietà e che venivano correlate alla narrazione filmica in forza di associazioni grossolane, a volte anche ampiamente prevedibili. Lo vediamo qui sulla scorta di questo commento musicale, così come lo si denomina in ambito italiano, per il film I3 del 1927. Una scaletta, scaletta, un collage di musiche preesistenti, riconoscerete i nomi di Giordano, per esempio, e Puccini, e così via. Becce ovviamente è già uno specialista, ma anche lui è un altro dei brani preesistenti. Ebbene, sin dagli albori del XX secolo immaginate che al singolo pianista subentrò molto presto una piccola orchestra con a capo un direttore. In origine si trattava di poco più che un trio con pianoforte, cioè una formazione con violino, violoncello e pianoforte. Ma all'arco di pochi anni questa formazione crebbe fino a un numero di circa 20 elementi. Che musiche venivano eseguite da queste orchestre? Le più varie dovevano essere enormemente eterogenee, per non dire incoerenti, per quanto concerne il genere, lo stile, il linguaggio musicale. Ne possiamo cogliere un riflesso oggi guardando e sfogliando una raccolta come questa. Intermezzi musicali a piccola orchestra riservati a spettacoli drammatici, per caffè concerti e udite udite stabilimenti balneari. Ma capita che si trovino dedicati e intestati anche a grand hotel o a spettacoli cinematografici. È una raccolta pubblicata da Ricordi nel 1897. Il cinema è un neonato a due anni e di lì a poco la parola cinematografo o films comincerà a comparire anche nei titoli di questa pubblicazione editoriale. Queste raccolte di pezzi di genere per orchestrina, per piccola orchestra, hanno fatto da incunabolo per la nascita di una editoria specializzata nel campo della musica cinematografica. Vari editori in giro per l'Europa presero a realizzare adattamenti o arrangiamenti di opere preesistenti qui vediamo per esempio i Vespri siciliani allo scopo di favorirne l'uso a fini cinematografici. È un'operazione di mercato l'editore adatta e favorisce l'uso a fini cinematografici di composizioni di cui detiene già i diritti. Ecco. Esempi la collezione Balalla dell'editore Botenbock di Berlino che ospita una suite di balletti di Tchaikovsky curata da quel compositore italiano appena nominato Giuseppe Becce. La collezione Pantheon che dello stesso editore propone arrangiamenti di fantasie operistiche. In Italia Sonzogno realizza riduzioni per orchestrina da Andrea Chenier da Cavalleria Rusticana si pubblica una fantasia dai Pagliacci e Ricordi commissiona intanto fantasie pucciniane brani tratti da Tosca Bohème Madame Butterfly la fanciulla dell'Ouest affidati a un tale Emile Tavan che vedete lì citato nella colonna centrale sono brani che trovarono largo impiego in sede cinematografica come testimonia a questo commento musicale per il film I Promessi Sposi un film del 1922 questa invece è la sua veste musicale ricevuta a Parma dal maestro Dante Dall'Aglio nel 1925 una svolta avviene però nel secondo decennio del novecento quando gli editori cominciano a produrre e a diffondere collezioni di musiche d'atmosfera come le abbiamo chiamate poc'anzi concepite appositamente per un uso cinematografico cioè il passaggio è da una musica adattata al cinema a una musica appositamente pensata concepita per esso per guardare la produzione di area milanese fra il 1915 e il 1916 ricordi attraverso la sua filiale parigina però pubblica la prima collana espressamente destinata a un impiego cinematografico e la intitola Excelsior Adaptation Musicale pour le Cinema 11 pezzi per orchestra di un compositore italiano di nome Vittorio Monti seguono varie raccolte analoghe fra cui questa Films musicali di Vincenzo Bigli e infine tra il 1926 e il 1930 viene varata una nuova e più ampia collezione che sin dal titolo Biblioteca Cinema Scene Musicali per Films Cinematografiche annuncia la volontà dell'editore di porsi in un mercato in ascesa già popolato da prodotti di autorevoli competitors se così si può dire internazionali per l'Italia vi è già l'azione e la concorrenza di editori come Carish per esempio come Signorelli all'estero si impongono i nomi della grande editoria musicale Bosworth Busy & Hoax Schirmer Schlesinger Schott Universale Edizione tra l'altro dalla Biblioteca Cinema provengono quasi tutte le musiche che oggi ascolteremo e la collezione è proprio in corso di ricostruzione nell'ambito del progetto di ricerca che qui presentiamo all'Università degli Studi di Milano perché films cinematografiche perché per l'italiano di inizio novecento film è femminile in quanto equivalente di pellicola queste scene musicali così le chiama l'editore non nascevano per accompagnare una pellicola ben precisa però erano concepite per accompagnare situazioni filmiche standardizzate ripetitive stereotipate nascevano per conferire a queste scene una generica atmosfera emotiva ecco perché il loro nome l'espressione italiana musica d'atmosfera è traduzione dell'inglese mood music come pure del tedesco stimmungsmusik ciascun brano reca un'indicazione di durata e soprattutto un titolo qui vediamo per esempio i sette brani di Franco Vittadini intitolati idilliaca esotica settecentesca marcia eroica angoscioso uragano titoli che rinviano a una concreta possibilità di impiego in vari film indicazioni che poi si completavano in genere con prescrizioni più complesse vediamo e sentiamo il brano angoscioso che viene indicato per scene di dolore pianto e disperazione lo ascoltiamo in una versione digitale che è frutto di un accurato lavoro di trascrizione e di editing in ambiente digitale del tipo che si sta realizzando per il progetto di cui si parla curato da Lorenzo Gioelli un giovane compositore e collaboratore anche lui del progetto milanese grazie Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti.